Ragazzi bentornati, io sono Dacon e questo è il 78esimo episodio della mia serie su Minecraft Ragazzuoli come state? Spero bene, siamo un po' in alto, vediamo di andare a dormire molto velocemente Allora oggi andremo a fare delle cosine minimamente interessanti almeno Allora abbiamo un po' di cose da fare, innanzitutto dobbiamo fare i ponti nella zona del grano Quindi adesso andiamo nella zona del grano e ci mettiamo a fare i ponticelli E così qua nella zona del grano, ora dobbiamo fare i nostri ponti Io direi che piazziamo innanzitutto un blocco, così diamo già l'altezza Poi ragazzi è davvero pazzesco camminare ed essere tipo qua e vedere le mura di fianco, gigantesche Se non sbaglio sono tipo una ventina di blocchi, se non sono 20 sono tipo 17 Che è comunque tantissimo per delle mura Ho visto soltanto sempre costruire mura molto più piccole di queste Soprattutto per queste dimensioni, non ho mai visto qualcuno che costruiva delle mura così grosse Ma non solo così grosse, ma anche così dettagliate Cioè non ho presente che l'abbia fatto nessuno Quindi sono orgoglioso di questo progetto Effettivamente è davvero la mia struttura più grande, se così si può dire diciamo Ed ecco quattro scalini Così siamo più che pronti a piazzarli Cioè dire che è grosso ragazzi, quest'area è grossa Cioè sta diventando sempre, sempre più grossa, qualcosa di incredibile Che al contrario Ah giusto, sono venuto di qua con il bonus e quindi ho distrutto tutto Ho capito Va bene, andiamo a ricostruire E ora direi che rapidamente faccio così Molto bene, i ponti sono stati fatti, direi anche riusciti Ora li illuminiamo momentaneamente, diciamo a caso Perché non ho ancora ideato un'illuminazione che possa soddisfarmi, diciamo Insomma non riesco a trovare dei, diciamo, delle luci che mi piacciono Ma andremo a fare anche un'altra cosina oggi Tutto, diciamo, questo attorno alle mura Perché? Perché serve? E per farlo ci serve un sacco, ma un sacco di grass Quindi grass block E un sacco di terra normale anche in verità Cioè può andare anche a quella Ecco qua, qui abbiamo dei grass block Perfetto, ne prendiamo qualche stack Buttiamo via questo, questo Non ci serve Qualche stack di grass ce lo prendiamo E qualche modo per uscire un po' più semplice, diciamo Potrebbe essere interessante anche Allora, prendiamo qua il grass block Perché va in questo preciso punto qui E ora lo prendiamo, lo tiriamo per tutta la struttura Ok, finalmente questi punti diventeranno belli Perché attualmente erano abbastanza brutti Dato che, come vedete, è un po' brutto vederlo lateralmente, diciamo Trasformiamo anche queste aree in aree belle Allora, fatto questo Dobbiamo prendere un sacco di gravel Ma prima direi che andiamo a riempire con una linea di stone bricks almeno Aspettavo questo momento da un sacco di tempo Il fatto di fare tutta la circonferenza del muro In questo punto qui Perché dovrebbe dare un effetto estremamente potente al muro Dato che non vedremo più la pietra Ma vedremo ben altre cose Quindi un muro ben fatto, insomma Allora, andiamo a prendere un po' di materiali Io direi che la gravel è assolutamente necessaria come i stone bricks Perché non bastano Direi che però la terra la possiamo anche depositare Che non ci serve E stessa cosa i grass block Che non ci servono per il momento Eccola qui la gravel Ne abbiamo un pochettino Non penso che basterà assolutamente Ma bisogna accontentarsi comunque Qui ho farmato un po' di nuovo stone Facendola cuocere Peccato che qui cambi bio Ma però non si dovrebbe notare troppo E comunque neanche ci interessa effettivamente Cioè, l'importante è che ci sia l'erba Poi successivamente andremo a cambiare il tutto Ok, qua andiamo a mettere subito la gravel Che era il punto dove la volevo andare a mettere per prima Perché qui proprio dove c'è questo punto mi dava molto fastidio Che non ci fosse E anche lì qua adesso la metto subito Perché mi dà molto fastidio Ok Qua continuiamo con la gravel Dato che ho finito gli stone brick E poi tanto che abbiamo finito praticamente tutta la gravel Andremo avanti con gli stone brick E poi finiremo di nuovo con la gravel Quando la andrò a riprendere Cioè, vi rendete conto che solo per fare Un piccolo bordino di due blocchi Vabbè, facciamo una piccola cosa di quattro blocchi Richiede una quantità enorme di materiale Cioè, davvero pazzesco Roba che senza gli attrezzi giusti In eterito, almeno in diamante e incantati Ci metteresti davvero molto tempo a raccogliere Ok, la gravel è finita Ora direi che mi posso procurare gli stone bricks Ok, la prima fila potrebbe essere finita Perché non ne idea, però mi sembra comunque conclusa Ed è già con questa piccola linea di verde tutt'altra cosa Sì, 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 è assolutamente finita Bene, ora direi che andiamo a fare Le discese in ogni area Che anche questa è una cosa che Non ho fatto ancora, quindi è da fare In questo episodio andiamo un po' a sistemare Tutti questi piccoli difetti che ci sono Le discese anche negli altri punti Quindi in questo modo Di qua ovviamente c'era già E a questo punto manca l'ultimo lato Che è questo Perfetto Ora, molto più semplicemente Ci serviranno gli altri materiali Perché altrimenti non possiamo fare assolutamente nulla E con altri materiali si intende principalmente Le scale di Andesita Perché è di questi materiali che stiamo parlando Così Considerando che qua ci sarà la gravel La strada sarà qui Però non ricordo come le avevo fatte negli altri Quindi direi che per il momento lascio La strada di tre Che vada dritto Poi osserveremo gli altri Perfetto In questo modo abbiamo fatto scendere Come doveva scendere la scala Quindi abbastanza dolcemente Senza una discesa ripida Ora andiamo a creare I blocchi cisellati che ci interessano E gli stone brick wall Ok, qua Facciamo in questo modo Però direi andiamo da sopra Che è un po' più veloce Vi volevo inoltre dire che Ho scoperto un portale del land Che si trova Vedete? Tipo lì c'è un cartello Che non è apparso In quella direzione E lì ho scoperto invece Uno spawner di Non ricordo cosa Forse di zombie Girando per le grotte qui sotto E quindi Probabilmente andremo anche a fare Lo spawner di zombie Perché abbiamo sì Quello di scheletri Ma non mi immaginavo Di avere uno spawner di zombie Qui vicino Sono felice di avere Tutto molto centrato In questa zona Uno spawner di ragni Non sarebbe male Perché anche se abbiamo Il glitch Diciamo Con cui possiamo ottenere Materiali infiniti Non mi sembra il caso Di sfruttarlo Eccessivamente Almeno ci facciamo la farm E poi facciamo come se La usassimo Diciamo Tra molte virgolette E possiamo sfruttare il glitch Semplicemente velocizzando Un processo che Avverrebbe in ogni caso Ma con Un po' più di fatica Se prendiamo altri Non so quanti altri Effettivamente Ma io direi almeno Tre stack Poi direi altri Stack di wool Perché comunque Stiamo costruendo qualcosa Di grosso Ho già in mente Le prossime costruzioni E penso che effettivamente In questi video Andremo molto avanti Perché C'è bisogno Di altre costruzioni Sia dal punto di vista estetico Che comunque Vorrei vedere più costruzioni Sia dal punto di vista funzionale Perché Comunque Le strutture Tendenzialmente Servono qualcosa Ad esempio La struttura Quella lì Dell'arceria Servono per i mercanti Poi Può essere un po' esagerato Costruire un'intera struttura Per dei mercanti Però a me piace Come Come cosa Mi piace davvero Molto Quindi Lo facciamo Abbiamo quasi Fatto l'ultimo giro Ok Ora dobbiamo andare a mettere I muretti Che sono una cosa Molto importante Comunque effettivamente Non so se vi ho detto Che Ho costruito Un'enorme piattaforma Di cobblestone Sotto il campo Cioè Forse Effettivamente Non ve l'ho detto Una semplice Enorme piattaforma Di cobblestone Con il cobblestone generator Come avete già visto E basta L'ho piazzato Ho torciato Questo perché Perché sicuramente Dovremmo costruire sotto Questa struttura E quindi Tanto valeva Portarmi avanti Dato che questo è il lavoro Che non vi farei neanche vedere Velocizzato Perché è davvero Inutile Poi una volta Che avremmo fatto Tutta L'isola Quindi Con le varie Limitazioni Cioè ad esempio Se già riusciti A fare tutti i vari distretti Sui quattro lati Ecco Diciamo così Successivamente Mi piacerebbe iniziare A fare cose altrove Come nel portale Del land Dove ho intenzione Di fare una torre Perché una torre Beh Questo è molto semplice Perché così Ci possiamo buttare di sotto Direttamente nel portale Senza Pregarcene di niente In sintesi Quindi Sì Diciamo che Vorrei divertirmi Con una specie di dropper Solo Non Non complesso Allora Ci mancano ancora Qualche Muretto Ed ecco qua Fatto Non è male Non è male Ora Devo assolutamente Andare A prendere l'altra stone E prendere i bottoni Prima di continuare Perché Piazzare i bottoni Successivamente Potrebbe essere Più complicato Di piazzarli ora Quindi Prendiamo un po' di stone E Craftiamo La quantità di bottoni Limitata Probabilmente Non mi basteranno neanche Ma io non ho il dubbio Li faccio La cosa comoda Di questi bottoni Che ora basta Soltanto tenere Il tasto destro Cliccato E Dato che i muri Non possono avere i bottoni Si piazzano soltanto Sui blocchi giusti Oltretutto Qui si potrebbe pensare A qualche passaggio segreto Forse Non lo so Dovrei ben studiare La trasmissione Della Redstone Effettivamente Come funziona Ho in mente un sacco di passaggi Ragazzi segreti Cioè Non avete idea Però la maggior parte Sono passaggi Estremamente belli Ad esempio Ho in mente Sicuramente Nella zona cittadina Di fare una statua E probabilmente Un mausoleo Non so esattamente dove Se farlo sempre in una piazza Come questa Quindi Case, case, case E qui un mausoleo Dove C'è un passaggio segreto Al suo interno Che è più o meno logico Ma allo stesso tempo Non per forza Perché ovviamente Sarà nascosto E quindi Voglio fare un sacco di cosine Ultra carucce Diciamo Per rendere Più profonda L'esplorazione Anche di questa Città Che comunque Adesso È sicuramente Profondissima Perché Gigante Però non ha Cunicoli Passaggi Collegamenti Anche perché Purtroppo Cioè Attualmente Sono solo un ammasso Di blocchi Belli Ma sono un ammasso Di blocchi Ne abbiamo solo uno Di passaggio segreto Anche perché Non abbiamo appunto Cose da collegare Dovremmo prima Fare delle strutture Poi Cioè Diciamo Strutture Anche Dal punto di vista Delle cose Eretiche Come possono essere Non lo so Un laboratorio Di un alchimista Ma Nello scantinato Dietro un passaggio Segreto Nasconde Una Wither Rose Qualcosa di oscuro Diciamo No Sarebbe Molto Molto Bello Da realizzare Quindi da Approfondire La lore Insomma Nel mondo Allora Io direi che Sicuramente Dobbiamo andare A prendere un po' di gravel Perché Altrimenti Non facciamo Poi molto Inizialmente Non mi piaceva Che scavassi Così tanto Sotto La cattedrale Diciamo In generale Nella mia area Però D'altra parte Vi dico Perché no Nel senso Ha anche senso Quindi Essendo che ha senso Ci sta L'unico problema Che qua Io vedo solo blocchi Portati da Enderman E Io che ho scavato Praticamente Tutta la diorite Che c'era No non è vero C'era ancora un sacco qui Che sicuramente Raccoglierò E continuerà A sparire Lentamente Rifornendo Le mie Oscure Riserve E quindi Sicuramente Da quel punto di vista Ne accumuleremo Anche perché Non vorrei farvi vedere Io che scavo minerali O comunque Anche solo blocchi Normali Appunto Non avrebbe Molto senso Rimane il fatto Che comunque La gravel Non la sto trovando Il che Mi rende un po' triste Se infatti Non trovo più niente Il tuff Servisse a qualcosa Il tuff Io anche Lo prenderei Effettivamente Ma non serve a niente E' quello il suo problema Del tuff Ok Quanto pare Di gravel Qui Non ce n'è Oltretutto Mi pare Di capire Che qui Qualcuno Ha rubato Un blocco E me l'ha tolto Per salire Maledetti Enderman Qui ce n'è Di roba Da Diciamo Raccogliere Tra clay Che è comunque Un materiale Importante Sotto certi aspetti Soprattutto Dall'aggiunta Dei vasi I vasi Sono estremamente Belli E Penso che Effettivamente Siano una Delle aggiunte Migliori al gioco Che hanno Aperto A una quantità Di Build Duck Che è La metà Bastava Davvero La metà Bastava Ora Qui non trovo Gravel Io direi che Possiamo provare Ad andare verso L'entroterra Ragazzi Gigante Io mi sento Piccolino Mi sto iniziando A sentire piccolo A muovermi In questa città Con questa cattedrale Ingombrante Gigante Bellissimo Bellissimo Assolutamente Positiva Come cosa Non pensate Che sia negativa Oltretutto Qui Da qualche parte In questi boschi Ci dovrebbe essere Un villaggio Che avevo visto E Vicino a questo villaggio C'era una rovina Una rovina Dove Diciamo C'era Una rovina Effettivamente Non mi ricordo Il nome Mi sembra proprio Che si chiamano rovine Quelle dove Questa pala Questa pala Questa pala qui Mi sa di Non dico fatta male Ma Non è in eterite E' quello il suo problema Non è in eterite Perché ovviamente Una pala fatta bene È una pala in eterite Io sono venuto qui Per la gravel Non per la terra Quando verrò per la terra Mi Perrò la terra Ma attualmente Sono interessato Soltanto La gravel Mi piace utilizzare Blocchi che nessuno utilizza Cioè io la gravel L'ho vista davvero Poco utilizzata Tipo mai utilizzata Per come la utilizzo io Quindi Sicuramente Mi piace il fatto Che nessuno la utilizzi Come la uso io Per le strade Sì ma Principalmente per le strade Tutti fanno le strade Texturizzate Che Sono belle Però il problema Delle strade texturizzate E' il fatto che A dirvela tutta Non mi dicono niente Cioè nel senso Sono strade texturizzate Bene Capisco Ma non sono belle Cioè il fatto che La strada non è bella In sé per sé E' una strada texturizzata Che E' fine a se stessa E' esattamente Quello che è Cioè una strada Texturizzata Non è una bella strada Texturizzata Quindi Sicuramente Prima bisogna fare Una strada bella Non basta mettere Due Due blocchi diversi Tre blocchi diversi Quattro blocchi diversi Per fare una bella strada Una bella strada Deve avere Senso Nella maggior parte Dei casi Io non ho mai visto Belle strade Soprattutto belle strade Con Le idee che ho Assolutamente no Infatti cercheremo Sicuramente di Fare una bella strada Ma più che altro Vorrei capire anche se Espandendoci molto Dato che ci stiamo Comunque espandendo molto In quell'area Quando finiremo Saremo ancora Lontani Dall'entroterra Perché se non lo fossimo Perché se non lo fossimo Io avrei anche piacere Di fare un ponte Molto Grosso Senza ombra di dubbio Perché il ponte Effettivamente È una struttura Che è bellissima E purtroppo Noi non possiamo Su quest'isola Fare ponti Molto grossi Cioè ho in mente Magari di fare Qualche ponte Con qualche idea Però È comunque Difficile Metterci un ponte Quindi Fare un ponte Grosso Che ci collega Diciamo al continente Potrebbe essere interessante Potrebbe essere interessante Potrebbe essere interessante Anche Fare una specie di Come dire Accampamento Fuori Dove c'è la gente Che aspetta Per l'accettazione Di entrare Nella città Cioè una cosa del genere Secondo me Sarebbe pazzesca O neanche tanto Le persone normali Ma quanto i mercanti Quindi i mercanti Che aspettano Di entrare in città Cioè questa cosa Sarebbe Fighissima Fighissima E appunto Bisogna vedere Effettivamente Quanto è complicato Quanto è difficile Fare una cosa del genere E se Soprattutto Riusciamo a collegarci Con l'entroterra Perché Ora Vicino E vicino Per l'elitra Però per un ponte Io non voglio fare Quei ponti Infiniti In acqua Che non hanno senso Cioè per me Un ponte Penso In base alla grandezza Ma comunque Un massimo di lunghezza Penso di un centinaio Di blocchi Non di più Un ponte Più lungo Di 100 blocchi Deve essere estremamente Giustificato Cioè È come fare un ponte Di 3 km In pietra In mezzo all'acqua Non ha senso Cioè 3000 blocchi Di niente Praticamente Ok Ho finito la gravel Ufficialmente Però almeno Ho continuato anche Quest'area qui Ora Noi dobbiamo Continuare Ad andare avanti Esattamente come Siamo andati avanti Qua Quindi significa Che qui Dobbiamo prendere Gli scalini Che sono Questi bellissimi scalini Le slab Questo bellissimo slab E fare Molto semplicemente Questo 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 In questo modo E continuare a fare Questo Diciamo trick Per tutta La lunghezza Dell'area Ma Ovviamente Prima sarebbe più comodo Fare una cosa del genere Perché Giustamente È più sbrigativo Dovremmo Andare a prendere Un bel po' di Diciamo Scalini Perché È L'unico materiale Che richiederà Il doppio E quindi Adesso Andiamo a prendere E Iniziamo a costruire Tutto questo Confine Diciamo Ma prima Andiamo a dormire Che è molto importante Altrimenti spawno Un sacco di mob Vorrei fare Le lampade Per strada Il problema È che davvero Non ho idee Su come realizzarle Queste lampade Se avete qualche idea Ripetelo nei commenti Perché non ho la minima idea Di come fare Ste lampade Cioè Io ho un blocco Non ho Non mi viene Non ce la faccio Allora Ci servono Assolutamente Un sacco di scalini Quindi Io Non mi dilungo neanche Scalini A profusione E poi Blocchi E poi blocchi Perché tanto Le slab Le posso fare dei blocchi Quindi se finisco Le slab Non è un grosso problema Allora Bisogna vedere come viene Ma secondo me Viene bello Cioè Non c'è molto da vedere Come viene Ecco Diciamo così A parte che l'abbiamo già fatto Però Cioè Secondo me viene molto 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 Bello Ecco qui È già più complicato E probabilmente Questa è l'unica scelta Che si ha In questo caso Quindi fare esattamente Come si è fatto lì Perché è effettivamente L'unica Ok In questo modo Diciamo qua Ipoteticamente Si scavalca E si fa manutenzione Alle mura Anche con gli scaffolding E Fantastica Ora Facciamo anche l'altro lato Perché Purtroppo Lo dobbiamo fare Ma prima Direi di continuare Da quel lato lì Perché non so Come si congiungono Penso che si congiungeranno Nella stessa identica maniera Ma non ne sono effettivamente sicuro Ok Si sono congiunti esattamente Come immaginavo Quindi ora Andiamo a Chiudere Il tutto E avremo La prima Parte Delle quattro Finita Almeno Questa parte superiore Perché poi c'è anche Quella inferiore da fare E anche lì Non è proprio simpatica La situazione Però considerando che Questa area Superiore Diciamo Durerà lungo Come le altre Quindi Comunque questa cosa qui Non saremmo costretti A rifarla A breve termine Insomma Perché qua Avevamo la cattedrale Che doveva essere Rialzata su tutto Qui avevamo La città centrale Che doveva essere Rialzata su tutto Il resto Sarà tutto più o meno Lo stesso piano E poi avremo Degli abbassamenti Importanti Al porto Che lo andremo a fare Non so dove Di qua o di là Immagino E Insomma Avremo degli abbassamenti Importanti Però È da molto da vedere Perché Sinceramente Non so effettivamente Come Lavorare Su questo progetto Cioè vado un po' Abbraccio Comunque Abbraccio Seguendo un pattern Quindi comunque Non si può sbagliare Però È comunque Abbraccio Ecco Quindi Le idee mi vengono Diciamo Camminando Manca Letteralmente Una slab Diciamo così Bene Anche questa parte di muro È finita Come quella Sì Allora È davvero Qualcosa di imponente Ora Cioè nel senso C'è questo muro Con un doppio rialzo E ora la base del muro Non sembra neanche Solo quella Ma sembra anche questa Dandogli questo aspetto Proprio imponente Con una base solida Ok Siamo arrivati Qui E ora L'ultima parte Teoricamente Prima di riempire Tutto Lo spazio vuoto Che abbiamo lasciato Tra gli scalini Che sarà anche un po' Ecco Sto continuando a sbagliare È andato via lo scalino Ok Fatto Si dorme Ora Bisogna riempire Tutte queste cosine E fare anche La parte inferiore Che comunque Richiederà altri materiali Praticamente A quantità pure superiore Però Vabbè Che si deve fare Questo è altro Per delle belle build Devo aumentare La produzione di lava Mi sa che l'aumenterò Perché Non basta Per tenere le fornaci Sempre accese 10 calderoni Mi sa che ne metterò 20 Perché effettivamente Servono Ok Finito Bene Ora Manca Soltanto La parte sotto Che in verità Non sarà più facile Anzi Per niente Però Vediamo come Si attacca Ok Perfetto Abbiamo visto che si attacca Con lo scalino rivolto Verso L'esterno Diciamo E quindi Ora Prendiamo gli scalini Che non abbiamo Quindi Mi sa che li dovrò rifare E anche in quantità Abbastanza Importanti In questo modo E ora Si rinizia Esattamente Quello che stavo facendo Prima Identico Sarebbe anche interessante Finito questa cosa Magari in un prossimo episodio Fare tutta la strada Che Circonda Tutta questa Questa muraglia Quindi Continuare dritti Girare Eccetera Anche con la gravel Così da effettivamente Collegare un po' Tutto Senza Dover per forza Passare per il centro Questa è l'ultima Prima di riempire E concludere Finalmente Le mura Nella loro totalità Pranne forse Per l'illuminazione Che verrà cambiata In futuro Ma per il momento Sono concluse E non le dovremmo più toccare Teoricamente Almeno che non facciamo Qualche passaggio strano Punto segreto O qualche passaggio normale Ma comunque Attraversando le mura Che Non si sa mai O Ci potrebbe anche scappare Una torre di guardia Qualcosa di coperto Sulle mura Però comunque Come struttura Principale È finita Questa era proprio L'ultima parte Che rimaneva Prima Di concluderla Ok Finito Ora si prende In mano Il blocco E la slab E si circonda tutto Se avete anche consigli Per quanto riguarda Questo blocco qui Sarebbe molto interessante Ragazzi Perché Vorrei riempire Con qualcosa di vegetale Con una decorazione Inizialmente ho pensato Alle bacche Quindi A Delle semplici bacche Il che potrebbe anche Aver senso Ed essere abbastanza carino Ha anche il rosso La bacca Quindi Ci potrebbe stare Però non ne sono Propriamente convinto Se avete consigli Scriveteli Che Li provo E vediamo Se effettivamente Usare la bacca O usare Qualunque altra cosa Ok Ecco fatto Assolutamente Finito Finito Il muro È ufficialmente finito Per il momento Prima che non mi venga Un'altra crisi E faccia qualcosa di nuovo Forse nel prossimo episodio Chi lo sa Comunque Eccoci qua Sembra un muro spesso Cioè Sembra davvero un muro Molto spesso Forse un po' Ripetitiva Come cosa Sicuramente lo è Però Vi dico Non mi dispiace Comunque guardandolo così In verità Sono allineate Allo stesso punto Ma se noi ci scostiamo Tipo in questo modo Vediamo che sono Che non sono allineati Bellissimo Anche questo effetto Mi piace un sacco Che dire Molto bello Molto bello Lo vediamo Da lontano Da più lontano Insomma Ok Qui vediamo Appunto In quest'area Che Sì È più spesso Come vedete È quasi come se fosse Appunto Una zona rialzata Murata Mi piace Effettivamente Mancano le porte Quindi non so Se finiremo Molto presto Poi qualche torretta Non mi dispiacerebbe In questi punti Metterla Almeno nei quattro angoli Non mi dispiacerebbe Però Che dire Molto molto bello Mi piace anche come esce La cattedrale Che esce davvero di tanto In confronto a Il massimo Delle strutture Che sarà questo Perché appunto Ha queste due torri Due campanili Bello Davvero bello Ragazzi Dall'alto della mia Torre Barra Campanile Vi ringrazio La visione Iscrivetevi al canale Per altri video E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi